Capitolo 3. Pin e Lupo Rosso. Pin viene portato in prigione e poi viene interrogato. Non tradisce i compagni dell'osteria, anche se vede Michelle che si unisce ai fascisti. In prigione incontra Lupo Rosso, un giovane partigiano famoso perché sa costruire le bombe. Pin e Lupo Rosso parlano, poi vengono portati via. I tedeschi sono peggio delle guardie del paese. Con le guardie Pin può scherzare perché lo conoscono, invece i tedeschi non capiscono l'italiano e i fascisti non lo conoscono. Nel comando tedesco, al mattino, il primo a essere interrogato è Pin. Di fronte a lui ci sono un ufficiale tedesco e un interprete fascista. Sul tavolo dell'ufficiale c'è il cinturone. I due chiedono a Pin. Come mai avevi in mano questo? Pin è mezzo addormentato. Michelle il francese non lo ha fatto dormire per essere sicuro che Pin non parli. Michelle, prima della guerra, lavorava in Francia negli alberghi e stava bene. Poi nel 1940 lo hanno rinchiuso in un campo di concentramento e da quel momento tutto è andato male. Ha perso il lavoro, è tornato a casa ed è diventato un criminale. Le sentinelle hanno capito che Pin e il francese parlavano. Così hanno portato via Pin perché era il principale indiziato e non doveva parlare con nessuno. Pin non riusciva a dormire, non aveva paura di essere picchiato perché era abituato, ma non sapeva come comportarsi durante l'interrogatorio. Da una parte voleva vendicarsi di Michelle e di tutti gli altri e confessare tutto, dall'altra sapeva che fare la spia era una cosa grave e nessuno gli avrebbe più voluto bene. L'ho trovato, risponde Pin all'ufficiale tedesco che gli ha chiesto del cinturone. Allora l'ufficiale solleva il cinturone e gli dà un colpo sulla guancia. Pin va quasi per terra e la guancia gli si gonfia. Il fascista e il tedesco vogliono sapere chi gli ha detto di rubare la pistola. Pin risponde di averla presa per sparare a un gatto. L'ufficiale gli tira un nuovo colpo sull'altra guancia. Pin vuole farne smettere e ha un trucco. Grida fortissimo prima ancora che il cinturone lo colpisce e non smette di piangere. Pin comincia a saltare per la stanza con le guardie che lo rincorrono e gli chiedono dov'è la pistola. Dopo un po' decide di dire la verità. La pistola è nascosta nelle tane dei ragni ma le guardie non sanno dove sono. Pin in fondo vorrebbe essere amico con questi uomini. Anche le guardie del paese lo picchiano sempre e poi si mettono a scherzare. Gli piacerebbe essere il loro amico e spiegargli dove fanno il nido ai ragni e fargli vedere i suoi posti segreti. Poi andrebbero insieme all'osteria a comprare del vino e poi tutti in camera di sua sorella a bere, fumare e vederla ballare. Ma tedeschi e fascisti continuano a picchiarlo. Pin non gli dirà dove sono i nidi di ragno. Pin piange fortissimo. Non tradirà Michelle e gli altri. Sono i suoi veri compagni. Pin li ammira perché sono nemici dei fascisti. Il casino fatto da Pin si sente dappertutto. Gli ufficiali cominciano a essere stanchi. Al comando tedesco c'è sempre molta gente e non è bello far vedere che le guardie picchiano i bambini. L'interrogatorio si interrompe ma Pin continua a gridare. Le guardie gli dicono che l'interrogatorio è finito ma Pin grida e non sente. Alla fine, stanco morto, Pin si calma. Ora una guardia lo accompagna in prigione e domani farà di nuovo l'interrogatorio. Pin esce dall'ufficio con una guardia. Sulla porta incontra Michelle, il francese, che esce libero. Michelle dice a Pin che ha deciso di entrare nel comando fascista e che prende servizio domani. Pin lo guarda con gli occhi rossi e la bocca aperta. Pin pensa a quello che gli ha detto Michelle e ci rimane male. Non perché è un traditore ma perché non capisce cosa pensano i grandi. I grandi continuano a cambiare idea e Pin non riesce a capire cosa hanno in mente. La prigione è una grande casa che era degli inglesi. È una casa strana che già prima sembrava una prigione circondata da torri con soldati che fanno la guardia. I prigionieri sono tutti nemici politici. Lo vedi perché sono stati picchiati. Anche Pin è un politico. Lo si vede subito. È ora di pranzo e Pin mangia la sua minestra quando si avvicina un ragazzo grande e grosso con la faccia più gonfia della sua per le botte e i capelli rasati sotto un berretto a visiero. Ti hanno picchiato bene compagno dice. Pin lo guarda non sa come comportarsi con lui. A te no? Il testa rapatta risponde. Tutti i giorni mi portano all'interrogatorio e mi picchiano. Se vuoi la mia minestra tieni. Io non posso mangiare perché ho la gola piena di sangue. E sputa in terra una macchia rossa. Pin lo guarda con interesse. Ha sempre avuto una strana ammirazione per chi riesce a sputare sangue. Allora sei il tisico? Dice al testa rapata. Forse mi hanno fatto diventare tisico. Continua il testa rapata. Pin lo ammira. Forse diventeranno veri amici. E poi gli ha dato la sua minestra e Pin ha fame. Se continua così mi rovinano per tutta la vita. Dice il testa rapata. Pin chiede. E tu perché non entri nel comando fascista? Allora il testa rapata risponde. Ma lo sai chi sono io? No. Chi sei? Fa Pin. Hai mai sentito parlare di Lupo Rosso? Lupo Rosso. Chi non ne ha sentito parlare? Pin lo conosce bene e sa che Lupo Rosso è il nome in codice di un partigiano di 16 anni che combatte contro i fascisti e i tedeschi. Lavorava in una fabbrica e sa fare le bombe. Ora Lupo Rosso è davanti a lui con la testa rasata, gli occhi neri e sputa sangue. Certo che conosco Lupo Rosso. Sei tu? Piede Pin. Sì, fa Lupo Rosso. E quando ti hanno preso? Giovedì. E cosa ti fanno? Forse mi uccidono. Quando? Forse domani. E tu chi sei? Lupo Rosso sputa sangue per terra. Pin dice il suo Pin ha sempre voluto incontrare Lupo Rosso ma ha paura perché sua sorella va con i tedeschi e Lupo Rosso odia i tedeschi e le persone che vanno con loro. Perché sei qui? Chiede Lupo Rosso. Pin risponde. Ho portato via una pistola a un tedesco. Lupo Rosso è contento. Sei in un gruppo? Chiede. Pin dice. Io no. Non sei in un gap? Pin è tutto contento di sentire quella parola. Sì sì, gap. Con chi sei? Pin non sa rispondere. Dice di stare con lo sconosciuto che c'era alla taverna la sera prima e lo chiama Comitato, la parola che ha sentito dire da quel uomo. Chi? Chiede Lupo Rosso. Comitato, non lo conosci? Uno magro? Tu dici bugie. Il comitato è fatto da tante persone. A Pin non piace parlare con i ragazzi di quell'età perché vogliono fare i superiori e non gli spiegano le cose e lo trattano come un bambino. Lo sai chi è mia sorella? È una domanda che non c'entra ma Pin non vuole più fare discorsi di cui non capisce niente. E chi è? Come chi è? Tutti conoscono mia sorella. È la prostituta più famosa della città? A me le donne non interessano. Ci penserò quando finirà la guerra. Ma se ti uccidono domani? Sai tenere un segreto? Dice sottovoce Lupo Rosso. Sì, risponde Pin. Ho preparato un piano per scappare stanotte. E dove vai? Dai miei compagni per combattere i fascisti e i tedeschi. Mi porti con te? No. Per favore Lupo portami con te perché non vuoi? Perché sei un bambino. Pin pensava di diventare amico di Lupo Rosso visto che ha rubato la pistola al tedesco. Poi Lupo Rosso ha continuato a trattarlo come un bambino e questo gli dà fastidio. Sarebbe bello andare con Lupo Rosso a combattere contro i fascisti. Purtroppo arrivano le guardie e le portano in cella. Dove sei di cella? Chiede Lupo Rosso. Non so dove mi metteranno. Non ci sono ancora stato? Dice Pin. Mi serve sapere dove sei? Dice Lupo Rosso. Perché? Fa Pin. Poi lo saprai. Pin viene preso da una guardia e portato nella sua cella.